Buongiorno a te nell'amore di Cristo Gesù, io sono Nicodemo Fabiano e questo è Leggiamo la Bibbia Insieme. Oggi è il mercoledì 21 di aprile del 2021, noi continueremo nel nostro cammino di lettura della parola del Signore. Noi quest'oggi leggeremo il capitolo 28 e 29, stiamo andando verso già l'ultima parte di questo libro della parola di Dio, quindi leggiamo oggi capitolo 28 e 29 del Libro dei Numeri. Capitolo 28, Libro dei Numeri, parola del Signore. Il Signore disse a Mosè, Dà quest'ordine ai figli di Israele e di loro, avrete cura di offrirmi al tempo stabilito la mia offerta, il cibo dei miei sacrifici consumati dal fuoco, che sono per me un profumo suave. Dirai loro, questo è il sacrificio fatto con il fuoco, che offrirete al Signore degli agnelli dell'anno senza difetti, due al giorno come olocausto quotidiano. Uno degli agnelli l'offrirai la mattina e l'altro agnello l'offrirai sull'imbrunire. E come oblazione un decimo di effa di fior di farina intrinza con un quarto di indiolio vergine. Tale è l'olocausto quotidiano offerto sul monte Sinai, sacrificio consumato dal fuoco, di profumo suave per il Signore. La libazione sarà di un quarto di indi per ogni agnello, la libazione di vino puro al Signore. La farai nel luogo santo. L'altro agnello l'offrirai sull'imbrunire con la oloblazione e con libazioni simili a quelle della mattina. È un sacrificio consumato dal fuoco, di profumo suave per il Signore. Nel giorno di sabato offrirete due agnelli dell'anno senza difetti e come oblazione due decimi di fior di farina intrinza d'olio con la sua libazione. Questo è l'olocausto del sabato. Per ogni sabato, oltre all'olocausto quotidiano, è alla sua libazione. Il primo giorno di ogni mese offrirete come olocausto al Signore due tori, un montone e sette agnelli dell'anno senza difetti. Tre decimi di fior di farina intrinza d'olio come oblazione per ciascun toro. Due decimi di fior di farina intrinza d'olio come oblazione per il montone. E un decimo di fior di farina intrinza d'olio come oblazione per ogni agnello. È un olocausto di profumo suave, un sacrificio consumato dal fuoco per il Signore. Le libazioni saranno di mezzo in divino per un toro, di un terzo di in per un montone e di un quarto di in per un agnello. Tale è l'olocausto del mese per tutti i mesi dell'anno. E si offrirà al Signore un capro come sacrificio per il peccato, oltre all'olocausto quotidiano e alla sua libazione. Il primo mese, il quattordicesimo giorno del mese, sarà la Pasqua in onore al Signore. Il quindicesimo giorno di quel mese sarà il giorno di festa. Per sette giorni si mangerà pane azimo. Il primo giorno vi sarà una santa convocazione. Non farete nessun tipo di lavoro ordinario, ma offrirete come sacrificio consumato fuoco da un fuoco un olocausto al Signore. Due tori, un montone e sette agnelli dell'anno che siano senza difetti. E come oblazioni del fior di farina intrisa d'olio, ne offrirete tre decime per un toro e due per un montone. Ne offrirai un decimo per ciascuno dei sette agnelli. E offrirai un capro come sacrificio per il peccato, per fare l'espiazione per voi. Offrirete questi sacrifici oltre all'olocausto della mattina, che è un olocausto quotidiano. Li offrirete ogni giorno per sette giorni. È un cibo di sacrificio consumato dal fuoco di profumo suave per il Signore. Li si offrirà oltre all'olocausto quotidiano con la sua libazione. Il settimo giorno avrete una santa convocazione. Non farete nessun lavoro ordinario. Il giorno delle primizie è quando presenterete al Signore un'oblazione nuova alla vostra festa delle settimane. Avrete una santa convocazione. Non farete nessun lavoro ordinario. Offrirete come olocausto di profumo suave al Signore due tori, un montone e sette agnelli dell'anno. E come oblazione del fior di farina intrisa d'olio, tre decimi per ciascun toro, due decimi per ogni montone e un decimo per ciascuno dei sette agnelli. E offrirete un capro per fare l'espiazione per voi. Offrirete questi sacrifici oltre all'olocausto quotidiano e alla sua oblazione. Sceglierete degli animali senza difetti e vi aggiungerete le relative libazioni. Numeri capitolo 29 Il settimo mese, il primo giorno del mese, avrete una santa convocazione. Non farete nessun lavoro ordinario. Sarà per voi un giorno di acclamazione. Offrirete come olocausto di profumo suave per il Signore un toro, un montone, sette agnelli dell'anno senza difetto. E come oblazione del fior di farina intrisa d'olio, tre decimi per il toro, due decimi per il montone, un decimo per ciascuno dei sette agnelli. E un capro come sacrificio per il peccato, per fare l'espiazione per voi. Oltre all'olocausto del mese con la sua oblazione e all'olocausto quotidiano con la sua oblazione, e le loro libazioni, secondo le regole stabilite, sarà un sacrificio consumato dal fuoco di profumo suave per il Signore. Il decimo giorno di questo settimo mese avrete una santa convocazione e vi umilierete. Non farete nessun lavoro. E offrirete come olocausto di profumo suave al Signore un toro, un montone, sette agnelli dell'anno, che siano senza difetti e come oblazione del fior di farina intrisa d'olio, tre decimi per il toro, due decimi per il montone, un decimo per ciascuno dei sette agnelli. E un capro come sacrificio per il peccato, oltre al sacrificio espiatorio, e l'olocausto quotidiano con la sua oblazione e la sua libazione. Il quindicesimo giorno del settimo mese avrete una santa convocazione. Non farete nessun lavoro ordinario e celebrerete una festa in onore del Signore per sette giorni. E offrirete come olocausto, come sacrificio consumato dal fuoco di profumo suave per il Signore, tredici tori, due montoni, quattordici agnelli dell'anno, che siano senza difetti. E come oblazione del fior di farina intrisa d'olio, tre decimi per ciascuno dei tredici tori, due decimi per ciascuno dei due montoni, un decimo per ciascuno dei quattordici agnelli, e un capro come sacrificio per il peccato, oltre all'olocausto quotidiano, con la sua oblazione e con la sua libazione. Il secondo giorno offrirete dodici tori, due montoni, quattordici agnelli dell'anno, senza difetti. Con le loro oblazioni e con le loro libazioni, per i tori, i montoni e gli agnelli, secondo il loro numero, seguendo le regole stabilite, e un capro come sacrificio per il peccato, oltre all'olocausto quotidiano, con la sua oblazione e la sua libazione. Il terzo giorno offrirete undici tori, due montoni, quattordici agnelli dell'anno, senza difetti. Con le loro oblazioni e le loro libazioni, per i tori, i montoni e gli agnelli, secondo il loro numero, seguendo le loro regole stabilite. E' come un sacrificio per il peccato, oltre all'olocausto quotidiano, con la sua oblazione e la sua libazione. Il quarto giorno offrirete dieci tori, due montoni e quattordici agnelli dell'anno, senza difetti. Con le loro offerte e le loro libazioni, per i tori, i montoni e gli agnelli, secondo il loro numero, seguendo le regole stabilite. E' un capro come sacrificio per il peccato, oltre all'olocausto quotidiano, con la sua oblazione e la sua libazione. Il quinto giorno offrirete nove tori, due montoni e quattordici agnelli dell'anno, senza difetti, con le loro oblazioni e le loro libazioni, per i tori, i montoni e gli agnelli, secondo il loro numero, e seguendo le regole stabilite. E' un capro come sacrificio per il peccato, oltre all'olocausto quotidiano, con la sua oblazione e la sua libazione. Il sesto giorno offrirete otto tori, due montoni, quattordici agnelli dell'anno, senza difetti, con le loro oblazioni e le loro libazioni per i tori, e i montoni e gli agnelli, secondo il loro numero, e seguendo le regole stabilite. E' un capro come sacrificio per il peccato, oltre all'olocausto quotidiano, per la sua oblazione e la sua libazione. Il settimo giorno offrirete sette tori, due montoni, quattordici agnelli dell'anno, senza difetti. Con le loro oblazioni e le loro libazioni per i tori e i montoni, gli agnelli, secondo il loro numero e seguendo le regole stabilite. E' un capro come sacrificio per il peccato, oltre all'olocausto quotidiano, con la sua oblazione e la sua libazione. L'ottavo giorno avrete una solene assemblea, non farete nessun lavoro ordinario. E offrirete come olocausto, come sacrificio consumato dal fuoco di profumo soave per il Signore, un toro, un montone e sette agnelli dell'anno, senza difetti. Con le loro oblazioni e le loro libazioni per il toro, il montone e gli agnelli, secondo il loro numero, seguendo le regole stabilite. E' un capro come sacrificio per il peccato, oltre all'olocausto quotidiano, con la sua oblazione e la sua libazione. Tale sono i sacrifici che offrirete al Signore nelle vostre solennità, oltre ai vostri voti e alle vostre offerte volontarie, sia che si tratti dei vostri olocausti o delle vostre oblazioni, o delle vostre libazioni, o dei vostri sacrifici di riconoscenza. E Mosè riferì ai figli di Israele tutto quello che il Signore gli aveva ordinato. Parola del Signore. Io ti aspetto domani, quando per la grazia di Dio, se il Signore così ci permetterà, continueremo a leggere la sua santa e benedetta parola. Nel frattempo io ti do un abbraccio, un bacio nel cuore, e che tu possa continuare a meditare in questa parola nel nome di Gesù. Dio ti benedica. Nel frattempo io ti da shotta, a tutti i dati bisogno della santa e benedetta. Noi Pinelli non c'è un galile, mappcio invece più grande né? Dopo aver vissuto, la canta e benedetta, Attisi an diЕ Germanoingle, è piuttosto e è piuttosto, bello avere in tutti i giorni, però nel mangio oignano delleelvelle sigla los